Benvenuti in questa nuova puntata di come riciclare le uova di Pasqua. Oggi crostata morbida e cioccolata al latte buonissima. Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolata al latte e lasciatelo raffreddare. A parte montate le uova con lo zucchero, dopo qualche minuto aggiungete anche l'olio di semi di girasole a filo, la farina, io ho utilizzato farina senza glutine, vi lascio le dosi in descrizione, il cioccolato fuso, montate ancora con le flusse elettriche, versate il compost all'interno di uno stampo furbo percorrostata del diametro di 22-24 cm e fate cuocere a 180 gradi per 20 minuti e poi lasciatela raffreddare. Portate a bollore la panna, versate il cioccolato tritato, cioccolata al latte e fondente, aggiungete anche 50 g di burro, fatelo sciogliere bene e versatelo sulla crostata morbida. Lasciatela rassodare in frigo per un paio d'ore, decorate a piacere e provatela perché è davvero una squisitezza. La seconda ricetta sono dei muffin morbidissimi, mescolate con una frusta a due uova con 160 g di zucchero, poi aggiungete 200 g di latte, una bustina di vanillina, 200 g di farina di riso, 100 g di fecola di patate, 8 g di lievito per dolci, 100 g di burro fuso e 150 g di cioccolato al latte tagliato a scaglie. Versate il tutto all'interno di uno stampo per muffin con i pirottini, aggiungete sopra ancora cioccolato 180 gradi 20-25 minuti. Oggi biscottoni al cioccolato al latte morbidi e golosi, senza glutine, senza burro. Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato al latte, a parte mescolate due uova con lo zucchero, aggiungete olio di semi di girasole, un pizzico di sale, il cioccolato fuso e un po' per volta la farina. Io ho utilizzato farina senza glutine, mezza bustina di lievito per dolci, impassate il tutto con la spatola fino ad ottenere un composto morbido come il gelato. Lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti, se volete potete aggiungere anche delle scagliette di cioccolato. Realizzate con uno spallinatore delle palline su una teglia foderata con carta da forno, mi raccomando ben distanziate da loro e fate cuocere a 175 gradi per 13 minuti. Provateli, sono davvero buonissimi e anche molto semplici da realizzare. Benvenuti in questa nuova puntata di come riciclare le uova di Pasqua ciambellone sofficissimo al cioccolato al latte. Vi basterà sciogliere a bagnomaria il cioccolato al latte e a parte il burro. Puoi montare le uova con lo zucchero, aggiungere 180 g di latte, 250 g di farina, io ho utilizzato farina senza glutine e una bustina di lievito per dolci. Sempre con le fruste in movimento aggiungete anche il cioccolato fuso e il burro fuso. Continuate a montare, versate il composto all'interno di uno stampo per ciambella del diametro di 25 cm, imburrato e infarinato, io ho utilizzato del cacao amare anziché della farina, 175 gradi per 40 minuti. Forno ventilato, preriscaldato. Una volta pronto lo sfornate, decorate con zucchero a velo e provatelo, è davvero morbidissimo e buonissimo. Ciao!